Ma dai costi nuova dove da stermi tutti a testa e a testa di cazzo Ciao Ciao a tutti ragazzi sono l'unico e solo oggi siamo tornati su minecraft questa è una piccola cagata ma solito non faccio altro nella vita di merda per Per annunciarvi una nuova serie Che però dovete capire da voi Dovete capirvela da voi cioè non posso Non posso stare a spiegare a spiegare lui cosa penso che l'abbiate già capito se non l'avete capito Aspetta che lo capiate bella raga detto questo stasera farò una bad work strano non le faccio mai e Speriamo che vada decentemente Le ultime volte sono andato un po' male Però dai stavolta ci rifacciamo siamo una mappa quello schifo Quello schifo Vabbè direi che noi ci vediamo non appena inizia la partita Ok raga finalmente dopo anni di oblio siamo riusciti ad entrare in questa partita Un po' tipo 20 ore e mezza che aspettavo Però dai Maggiù che neat Come dica una cena Mouse come al solito deve essere sempre Il cavetto messo in modo che non me lo fa muovere bene Ma porco Zeus Ricordo che esplorando questa mappa avevo trovato un'isola di diamanti Che non se la caga mai nessuno ma che sta tipo di là E quindi io generalmente Prima cosa che faccio Raggiungo l'isola dei diamanti Seconda cosa che faccio perché mi faccio la diamond armor E già la cosa che uno dei nostri è stato ucciso Non mi piace perché vorrebbe dire che quello li può avvenire In base da noi L'altro è stato ucciso da Jason gioca a Minecraft 787 Cosa è la nuova versione? Oh l'hanno ucciso Oh Oh Jason Oh Jason Sta venendo killato da chiunque L'hanno killato due nella stessa volta Com'è possibile sta cosa me lo devono spiegare I verdi non sono abbastanza furbi E non sono venuti a prendersi i diamantini Sono stato abbastanza furbi Ma li sono presi Adesso la raffa di avanti e scappa Dico piazza la bomba e scappa No Non ho la pezza Ecco no eh Ragazzi Io ci provo ad essere simpatico però Mettetici anche del vostro Subito io ho un forge Per Per riuscire a combinare qualcosa La spada in oro costa 7 Mi ricordavo bene Aspettiamo di prendere 7 E facciamoci la spada in oro Perfetto abbiamo i set Scusatemi raga C'avevo un dubbio se La registrazione stesse funzionando o no Perfetto raga Siamo equipaggiati Decentemente Non dico bene Perché bene è un po' Bruttino da dire Ma è decente Questa Questo equipaggiamento Andiamo di nuovo Tra i diamantini Potrei spenderli in Un cazzo Vedi cosa ci faccio con tra diamanti Pena Cioè che poi bene la faccio comunque Anche senza i tra diamanti Quindi tra diamanti Faccio ancora più pena Diamanti Lingotti d'oro Lingotti di ferro Che tanto in questo momento Non ci servono Necessario Ce l'abbiamo Ok Il letto dei gialli È stato distrutto Oh dal nostro compagno Bella Me la son vista veramente brutta Ricomento Jason Che è tipo OP Che dovrebbero nerfarlo Un po' come Multiplayer su Su coso Abbiamo già la protezione No ma io volevo farla adesso E la sharpness Costa 8 Che vita Baccani Vado a fare allora Ce vado a farmare un po' Di No non vado a farmare un cazzo Perché mi sa che sta arrivando qualcuno Vabbè io ho lasciato tutto nella cassa comune I gialli secondo me tipo camperranno fino alla morte Poi sono già morti praticamente Ok Non camperranno perché sono stato ucciso dal jazz Ma il jazz non è devastante Cioè il jazz non OP raga Cioè se non ci sto attento ammazza anche me No raga facciamoci una sharpness veloci veloci Non ho abbastanza diamanti Devo muovermi Raga Perché faccio il camper Io devo andare a combattere Non posso stare qua a camperare A fare il farmer Il farmer Schifo Devo andare Conquistare Esplorare Però se i nostri compagni cadono nel vuoto Cioè dove pensiamo ad andare Non ho manco l'arco raga Ok Il lato di verde è stato distrutto da uno dei nostri Io direi che Mi muovo verso di qua Forse c'è qualcuno Non ho visto male Sono andando talmente poco al centro Che male non mi ricordo manco più dov'è Sperando che non ci sia jason Che sennò jason diventa un problema No bro Oh mi servono a me Doi Ma perché deve prendersi lui Ma lui c'è già tutto Oh Oh è vero Il team di jason è il verde E gli hanno già spaccato il letto Quindi jason è molto ma molto vulnerabile Ragazzi Se riescono ad ammazzare jason O se riesco io ad ammazzare jason È bella Così non ci abbiamo più problemi per tutta la partita Cioè in realtà I problemi potrebbero dare negli altri Però jason era problema maggiore Perché poi jason cazzo Jason è quello di Veneri 13 Mi è venuto in mente solo adesso Jason non c'è più L'hanno ammazzato Visto che è green Non c'è più nessuno Cioè mi sono reso conto solo adesso Certo che comunque Questo gioco qua è parecchio bugato Perché le volte ti dice Chi è morto Le volte non te lo dice Quindi Sì è un bug continuo Questo gioco Però vabbè Dai A minecraft quindi a me va bene Cos'è class royale Stai già sclerando da Da otto ore Uh potrei decidere già di fare lì la gold forge Così Ho più oro Mi serve l'oro per l'archetto L'oro non mi serviva per l'archetto I blu Non li abbiamo mica spaccato il letto Che figlio hanno fatto i blu Hanno quittato tutti Siamo troppo forti Io non ho fatto manco una kill Io sto facendo il crumper Non devo fare il crumper Ok ragazzi posso iniziare già ad andare giù Dallo shop Questo è Rifretta No skill No skill Ma questo qua è Ma quello è il team upgrade Non voglio questo Ok Quelli vogliono andare su Nessuno pensa a difendere il letto Ci devo pensare ogni volta Con Zeus Se c'è qualcuno che Crede in Zeus Con la gente lì Non guardate i miei video Fidatevi di me Dai ragazzi Faccio questa partita La gioco al massimo Quindi andando in giro Picchiando Facendomi picchiare Roba del genere E poi giuro che Chiudo il video Perché sennò viene tipo Lunghissimo Secondo me Già 20 minuti Sono passati Soltanto che per la prima E' una breadwood Ricordarmi che il player shop E' di qua Perché è di qua Non sword Dovebbe già tipo essere un po' più utile Oh Non skill Non skill Non skill Però sta facendo il devasto Cioè Dice Senza skin E skill Ma Quale skill Ce l'ha benissimo Forco Zeus No ma l'hanno ucciso No Fatemi le gemme Ma queste gemme le posso usare Per fare le potenzialmente Su Clash Royale Oppure dobbiamo fare No jamming Come Come grax Io fai 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 Più gemme Tu che non so cosa Porco Zeus Continuo ripetere Chi chiede in Zeus Nella gente Di non guardare i miei video Grazie Oh Wassim Sta tipo Devastando il mondo E non mi piace sta cosa Perché Potrebbe devastare anche me In tempo zero Chi è il Pirla che ha piazzato quel blocco Dammi un po' di oro Non me ne frega niente del ferro Ok raga posso smetterla di fare il campaino Nella spawn Ho scritto 20 messaggi Per la gente che Esci Esci Domani sera cosa facciamo E cosa facciamo domani sera Esplodete male tutti Ce l'avete capito raga Dovete esplodere male Non è che potete Chiedere sempre a me No scherzo La pura gente Mi spiace Vi voglio bene Cioè in fondo siete i miei amici Vi voglio bene Non fate caso Le cazzate che dico nei video Ne dico mai tante Anche dal vivo Senza bisogno di fare i video Quindi figuriamoci quando faccio i video Se ne dico già tante è normale Dai con questa spada Che non Io non ho mai capito Perché le spade Non vogliono entrare nelle chest C'è qualcuno qua sopra Ah No Vabbè Non ci siamo fatti la roba di da Da testa No skin no skill Sta facendo il devasto No raga io Vado e spacco E li vado a picchiare Vabbè ho voluto andare a picchiare Sono state tipo le due partite più facili Mai fatte nella mia stessa vita Va bene Dirai che per questo video è tutto Porco schifo Non Stavo confondendo Per questo video è tutto Le cazzate per oggi sono finite Mi dispiace Ne sentirete nel prossimo video Io vi saluto Condividete il video Mi raccomando Condividete il video Mi sono sta Cioè L'ultimi video stanno a 14 views Raga Non stiamo scherzando Ma io devo continuare a fare video Che per 14 persone Che magari poi La stessa persona che per sbaglio Apre il video due volte Se lo riguarda E quindi neanche Neanche 14 persone Un po' meno Quindi io direi che Raga Condividete i video Mi raccomando Cioè Comunque Dobbiamo impegnarci un po' tutti Per il canale Mi impegno Mi impegno di tutto Perché mi pubblicizzo Come uno schifo Ma Da solo Uno Non riusciva mai A far vedere il suo video Alla gente Insieme Possiamo fare grandi cose Raga Mi raccomando Facciamolo Mi aspetto Per il prossimo video 30 views Ve la butto lì 30 views E 10 like Ve la butto lì Dai Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao tutti Ciao tutti